Miss Mary Pasque, fu soltanto la primavera seguente che trovai il coraggio di raccontare alla signora Bridgeweb ciò che mi era successo quella notte a Morgà. Prima di tutto, la signora Bridgeweb era in America, e dopo la notte in questione io rimasi all'estero per diversi mesi. Non per piacere, lo sa Dio, ma a causa di un collasso nervoso, che avevano attribuito alla mia ostinazione a voler riprendere subito il lavoro dopo la febbre avuta in Egitto. In ogni caso, anche se fossi stato porta a porta con Grace Bridgeweb, non le avrei raccontato comunque la storia prima di allora, né a lei né a chiunque altro. Non prima di rimettermi in sesto in uno di quei meravigliosi sanatori svizzeri, dove ti tolgono le ragnatele da dentro. Non avrei neanche potuto scriverle, non potevo neppure per salvarmi la vita. Gli avvenimenti di quella notte dovevano essere sommersi da strati e strati di tempo e di oblio, prima che potessi sopportare di affrontarli di nuovo. L'inizio fu stupidamente semplice, nient'altro che il riflesso improvviso di una coscienza del New England, esercitato su un fisico indebolito. Mi trovavo in Bretagna per dipingere, durante un autunno mite ma incerto. Un giorno il cielo era tutto azzurro e argentato e il giorno dopo si alzava la nebbia o il vento. C'era una piccola locanda tutta bianca, lungo Puan Diorà, che l'estate era invasata ai turisti, ed inverno era un mare di solitudine. Era lì che alloggiavo per cercare di ritrarre le onde, quando qualcuno mi disse «Perché non arriva fino al capo tal detali, oltre Morgà?» Ci andai, e vi trascorsi una giornata azzurra e argento, e sulla via del ritorno il nome Morgà scatenò in me tutta una serie di associazioni mentali. Morgà, Grace Bridgeworth, la sorella di Grace, Mary Pasch. Sai, la mia cara Mary ha una casetta vicino a Morgà. Se ti dovesse capitare di andare in Bretagna, va a trovarla. Conduce una vita così solitaria. Sono così infelice per lei. Fu così che tutto ebbe inizio. Conoscevo bene la signora Bridgeworth da anni, ma con Mary Pasch, la sorella maggiore, nubile, non avevo mai avuto rapporti. Sapevo che Mary e Grace erano molto attaccate. Per Grace era stato un vero dolore trasferirsi a New York, quando aveva sposato il mio vecchio amico Horace Bridgeworth. Perché Mary, dalla quale non si era mai separata, si era ostinata a restare in Europa, dove le due sorelle avevano vissuto e viaggiato dall'epoca della morte della madre. Non ho mai capito del tutto come mai Mary Pasch non voleva andare con Grace in America. Grace sosteneva che la sorella era troppo artista. Tuttavia, conoscendo la Miss Pasch maggiore e la natura estremamente elementare del suo interesse per l'arte, mi chiedevo se il vero motivo non fosse in realtà che detestava Horace Bridgeworth. Esisteva comunque una terza possibilità, più concepibile, se si conosceva Horace, vale a dire che questi forse le piaceva troppo. Ma anche questa diventava insostenibile, o almeno così pensavo, una volta che si conoscesse Miss Pasch, con la sua faccetta rossa e rotonda, con i suoi innocenti occhi sporgenti, con il suo appartamento da anziana signorina decorato con riproduzioni artistiche e la sua vaga e timida filantropia. Aspirare a Horace. Beh, era tutto alquanto enigmatico, o così sarebbe stato se fosse valsa la pena interessarsi a questo enigma, ma non la valeva. Mary Pasch era come altre centinaia di scialbe anziane zitelle, allegre derelitte perfettamente soddisfatte di tanti piccoli surrogati della vita. Neppure Grace mi avrebbe interessato particolarmente, se non avesse sposato uno dei miei amici più cari, e se non fosse stata gentile con gli amici di lui. Era una bella donna, brava ma piuttosto noiosa, completamente presa dal marito e dai figli, e senza la minima immaginazione. Tra il suo attaccamento alla sorella e l'adorazione che Mary Pasch aveva per lei, si apriva l'inevitabile abisso tra i sentimenti di chi è libero sentimentalmente e quelli di chi è già appagato negli affetti. Prima del matrimonio di Grace, tuttavia, le due sorelle erano state legate da un'intimità profonda, e Grace era una di quelle dolci donnine coscienziose, che continuavano a usare le espressioni più affettuose, quando parlavano di qualcuno che amavano gioiosamente, anche se non lo vedevano mai. Così, quando disse, lo sai, sono anni che io e Mary non stiamo insieme, da prima che nascesse la piccola Molly, ah, se fosse venuta in America, pensa, Molly ha sei anni e non ha mai visto la sua cara zia. Quando disse questo, aggiunse, se andrai in Bretagna, promettimi che andrai a trovare la mia Mary. Mi commosse così profondamente che finì per sentirmi obbligato ad andarci, anche se non ne avevo alcun motivo. E accadde così che in quel pomeriggio azzurro e d'argento, l'associazione di idee, Morgat, Mary Pasque, per far piacere a Grace, sbloccò improvvisamente il mio senso del dovere. Benissimo, avrei messo poche cose nella borsa. Completato di dipingere la parte di quadro che mi ero prefissa per quel giorno, sarei andato a trovare Miss Pasque al calare della luce, e avrei passato la notte alla locanda di Morgat. A questo scopo ordinai che mi facessero trovare alla locanda, quando fossi tornato, uno di quei traballanti birocci tirati da un solo cavallo tipici del luogo, e con questo partii verso il tramonto, alla caccia di Mary Pasque. Con la rapidità con cui si battono le mani, davanti a me e allo stagliere che portava il biroccio, si parò una cortina di nebbia salita dal mare. Un minuto prima stavamo percorrendo un altopiano spoglio, con le schiene rivolte al tramonto che tingeva di cremisi la strada davanti a noi, e adesso ci avviluppava la notte più fonda. Nessuno aveva mai saputo dirmi esattamente dove abitava Miss Pasque, ma ritenevo probabile che l'avrei scoperto al villaggio di pescatori, verso il quale ci stavamo dirigendo. E avevo ragione, perché un vecchio sulla porta mi disse, sì, dopo la prossima salita, e poi giù, per una stradina sulla sinistra che porta al mare, la signorina americana che vestiva sempre di bianco. Oh, lui la conosceva, vicino alla Bé de Trepassée. Va bene, ma come facciamo a trovarla al buio? Io il posto non lo conosco, borbottò il ragazzetto riluttante che mi stava portando. Lo capirai quando ci arriveremo, dissi io. Sì, e nel frattempo il cavallo si sarà azzoppato. Non posso rischiare, signore, o mi metterò nei guai con il patron. Alla fine un argomento adatto lo convinse a spingere avanti l'incespicante cavallo guidandolo a piedi. Così proseguimmo per la nostra strada. Ci sembrò di avanzare piano per diverso tempo, in un'oscurità umida, impenetrabile per la luce e fioca del nostro unico lume. Ma ogni tanto la cappa si sollevava, oppure le sue cortine si separavano, e allora la nostra debole lanterna illuminava, nella notte, un oggetto perfettamente comune. Un cavallo bianco, il muso incuriosito di una mucca, i ciottoli del selciato. Reso portentoso e incongruo per il semplice fatto di essere separato dallo sfondo, di apparirci improvvisamente davanti e poi sparire in un baleno. Ogni volta che si verificava una di queste illuminazioni, il buio diventava tre volte più fitto, e la sensazione che per un po' avevo avuto di discendere gradualmente da una collina, adesso si era trasformata in quella di franare giù per un precipizio. Saltai giù di corsa e ragionsi il mio giovane vetturino all'altezza del muso del cavallo. Non posso più andare avanti, mi fermo qui, signore, si lagnò questo. Guarda, c'è una luce laggiù, proprio lì davanti. Il velo ondeggiò, e vedemmo due quadrati di luce in una massa scura, che doveva essere di sicuro la parte anteriore di una casa. Portami fin lì, poi potrei tornartene indietro. Il velo scese di nuovo, ma il ragazzo aveva visto le luci, e ritrovò il coraggio. Di sicuro davanti a noi c'era una casa, e di sicuro era quella di Mary Pasch, visto che non potevano essercene due in quel deserto. Inoltre, il vecchio incontrato nel villaggio aveva detto, vicino al mare, e le modulazioni infinite della voce dell'oceano, così familiari in ogni angolo della Bretagna, al punto che la gente calcola le distanze su di loro, mi dicevano da diverso tempo che ci stavamo avvicinando al litorale. Il ragazzo seguitò a guidare il cavallo senza rispondere. La nebbia era più fitta che mai, e la nostra lanterna ci mostrava soltanto le grosse gocce di umidità che colavano sui fianchi magri dell'animale. Il ragazzo si fermò bruscamente. Non c'è nessuna casa, stiamo finendo dritti nel mare. Ma le luci, li hai viste, no? Così credevo, ma dove sono adesso? La nebbia si è di nuovo diradata. Guardi, si vedono degli alberi laggiù. Ma le luci sono scomparse. Forse gli abitanti della casa sono andati a letto, proposi scherzando. Allora non sarebbe meglio tornare indietro, signore? Come? A due soli metri dal cancello? Il ragazzo rimase in silenzio. Un cancello doveva esserci di sicuro, e presumibilmente dietro gli alberi doveva esserci un'abitazione, a meno che non ci fosse soltanto un campo e poi il mare. Il mare, la cui voce collerica rombava sotto di noi. Non c'era da stupirsi se chiamavano quel porto l'abbè de trepassé, la baglia dei morti. Ma che cosa poteva aver indotto la rosea e tranquilla Mary Pasch a venirsi a seppellire lì? Ovviamente il ragazzo non mi avrebbe aspettato, lo sapevo benissimo. Era proprio l'abbè de trepassé. Il mare ruggiva come se fosse l'ora del pasto, e le furie, le sue guardiane, lo avevano dimenticato. C'era un cancello. La mia mano l'aveva incontrato. A tastoni trovai il lucchetto, l'aprii, e passai tra i foltici e spugli, dirigendomi verso la casa. Non ardeva una sola luce. Se quella era davvero la casa di Miss Pasch, lei andava di sicuro a dormire molto presto. La notte e la nebbia adesso erano una cosa sola, e le tenebre erano fitte come una coltre. Cercai inutilmente un campanello. Alla fine la mia mano venne a contatto con un battente, e lo sollevai. Il colpo risuonò a lungo nel silenzio, ma per un paio di minuti non successe nulla. Non c'è nessuno, le dico, mi gridò il ragazzo spazientito dal cancello. Invece qualcuno c'era. Non avevo sentito passi all'interno, ma in quel momento scattò la serratura. Una vecchia con il cappello da contadina mise fuori la testa. Aveva posato la candela su un tavolo lì vicino, sicché la sua faccia, pur circondata da un alone luminoso, rimaneva in ombra. Ma capivo che era anziana dai suoi movimenti faticosi e dalle spalle ricurve. La luce della candela, che rendeva lei invisibile, illuminò invece appieno il mio viso, e lei mi fissò. — È questa la casa di Miss Mary Pasch? — Sì, signore. La voce, una voce molto vecchia, era piuttosto gradevole, priva di stupore e perfino amichevole. — Vado ad avvertirla, aggiunse, allontanandosi pesantemente. — Crede che mi riceverà? Le gridai dietro. — E perché no? Che idea! Quasi rise. Mentre si ritirava, vidi che era avvolta in uno scialle e che aveva al braccio un ombrello di cotone. Evidentemente stava uscendo. Forse doveva tornare a casa per la notte. Mi chiesi se Mary Pasch vivesse tutta sola nel suo romitaggio. La vecchia scomparve con la candela, lasciandomi nell'oscurità totale. Dopo un po' sentì chiudersi una porta in fondo alla casa, e poi un lento calpestio di zoccoli sul pavimento esterno. La vecchia evidentemente aveva raccolto i suoi zoccoli in cucina e aveva lasciato la casa. Mi domandai se avesse detto a Miss Pasch della mia presenza prima di andarsene, o se mi avesse semplicemente lasciato lì, giocandomi un tiro un po' crudele, ma di sicuro efficace. La cosa certa era che non si sentivano rumori all'interno. Il suono dei passi si spense. Si udì cigolare un cancello. Poi un silenzio totale si levò nuovamente, come un muro. Mi chiedo, cominciai a pensare tra me e me, e in quel momento un ricordo confuso affiorò bruscamente alla superficie dei miei pensieri apatici. «Ma è morta! Mary Pasch è morta!» Lo strillai quasi a voce alta, tanto era forte il mio sbigottimento. Era incredibile quanti scherzi mi facesse la memoria da quando avevo avuto la febbre. Sapevo quasi da un anno che Mary Pasch era morta. Era morta improvvisamente lo scorso autunno, e anche se avevo pensato di continuo a lei in quegli ultimi due o tre giorni, soltanto adesso il particolare dimenticato della sua morte tornava bruscamente alla mia coscienza. «Morta? Non avevo trovato Grace Bridgeweb in lacrime, in lutto, il giorno stesso in cui mi ero recato a salutarla prima di partire per l'Egitto. Non mi aveva messo davanti agli occhi un telegramma, piangendo addirotto, mentre leggevo «Sorella morta improvvisamente questa mattina, richiesta a sepoltura in giardino casa, particolari per lettera». Era firmato dal console americano a Brest, un amico di Bridgeweb, che mi sembrava di ricordare. Vedevo le parole di quel messaggio impresse nel buio davanti a me. Mentre me ne stavo lì, ero più irritato della scoperta di aver avuto un simile vuoto di memoria che dal fatto di essere da solo in una casa immersa nel buio o vuota, o abitata da estranei. Recentemente mi ero già accorto di perdite improvvise di memoria riguardo a fatti noti, e adesso eccone un'altra. Decisamente non mi ero ancora ripreso come il dottore mi aveva assicurato. Beh, sarei tornato a Morgà e sarei rimasto lì un paio di giorni a non fare niente, a mangiare e dormire soltanto. Ero talmente assorto nelle mie riflessioni che avevo perso la cognizione del tempo e non ricordavo più dove fosse la porta. Cercai un fiammifero in tutte e due le tasche, ma se i dottori mi avevano costretto a smettere di fumare, come poteva esserci? La frustrazione della mia ricerca accrebbe il più irritante senso di impotenza. Ne avevo cominciato ad andare attentoni nell'ingresso, schivando gli spigoli di mobili invisibili, quando apparve una luce obliqua sul muro ruvido delle scale. Seguì la sua direzione e sul pianerottolo sopra di me vidi una persona vestita di bianco, che schermava una candela con la mano e guardava in basso. Mi venne un brivido per tutta la spina dorsale, perché la figura aveva una strana somiglianza con Mary Pasque. «Oh, è lei!» esclamò con una vocetta pigolante, che era al tempo stesso tremula come quella di una vecchia e in falsetto come quella di un ragazzo. Scese giù, faticosamente, con i suoi cadenti vestiti bianchi e i consueti movimenti goffi e incerti. Mi accorsi però che i suoi passi sopra le tavole di legno delle scale non facevano rumore come avrebbero dovuto. Rimasi senza dire una parola a guardare la figura sopra di me e mi dissi «Non c'è niente, né lì né altrove! Hai digerito male, oppure hai un problema agli occhi, oppure hai qualcosa che non va da qualche parte!» Ma c'era la candela e mentre si avvicinava, illuminando l'interno in cui mi trovavo, mi voltai e afferrai la maniglia della porta, «Perché, ricordate, avevo visto il telegramma e Grace in lutto!» «Ma che cosa le prende? Li assicuro, non mi dà nessun disturbo!» cinguettò la figura di bianco, aggiungendo con un debole sorriso «Non ho più molti visitatori di questi tempi!» Era arrivata all'atrio e stava davanti a me, tenendo in alto la candela con la mano tremante, scrutandomi in faccia. «Lei non è cambiato, non come avrei pensato, ma io sì, non è vero! mi domandò con un'altra risatina e all'improvviso mi posò una mano sul braccio. Guardai la mano e dentro di me pensai «Questa non può ingannarmi!» Ero sempre stato un attento osservatore delle mani della gente, la chiave per scoprire il carattere che gli altri cercano negli occhi, nella bocca, nella forma del cranio. Io la trovo nella curva delle unghie, nel taglio dei polpastrelli, nel modo in cui il palmo, roseo, giallastro, liscio o rugoso, parterà alla base. Ricordavo così distintamente la mano di Mary Pasch, perché sembrava davvero una caricatura di sé stessa, rotonda, paffuta, rosea, ma al tempo stesso invecchiata prematuramente e inutile. Ed era lì, posata sulla mia manica. Però era cambiata, si era avvizzita, somigliava in un certo senso a uno di quei palli di funghi velenosi e macchiati che diventano polvere e non appena li tocchi. Polvere? Ma certo! Guardai quelle dita leggermente rugose e con i loro assurdi e piccoli polpastrelli ovali, una volta così innocenti e naturalmente rosei, e adesso blu sotto le unghie giallastre, e mi sentì a capponare la pelle. Entri, venga! Gorgheggiò lei, inclinando da una parte la testa bianca e spettinata e guardandomi con gli occhi azzurri sporgenti. La cosa orribile era che ricorreva ancora alle stesse arti, a tutti gli adescamenti ingenui di una goffa e frivola civetteria. Sentì che mi tirava per la manica, obbligandomi a seguirla come un filo d'acciaio. La stanza nella quale mi condusse era, beh, intatta. È così che si dice in questi casi, perché di regola quando le persone muoiono le loro cose vengono raccolte tutte insieme, i mobili venduti, e i loro ricordi spediti ai familiari. Per una macabra compassione, o forse erano state istruzioni precise di Grace, invece, quella camera era stata conservata esattamente come mi immaginavo che fosse quando Miss Pasch era viva. Non ero dell'umore di mettermi a guardare i particolari, tuttavia alla luce guizzante della candela intravidi cuscini ricamati, tegliere di rame e un vaso che conteneva ancora il ramoscello sbiadito di un virgulto a lenta fioritura, un vero interno alla Mary Pasch. La bianca figura svolazzò come un fantasma fino al caminetto, accese altre due candele e posò la terza sul tavolo. Non credevo di essere superstizioso, ma quelle tre candele, senza neppure riflettere, mi chinai di corse e ne spensi una. La sentii ridere alle mie spalle. Tre candele, crede ancora a queste cose? Io ho superato tutto, vede? Ridacchiò. Una sensazione di benessere, una tale libertà. Un nuovo brivido si aggiunse ai molti altri che mi avevano già attraversato. Venga a sedersi vicino a me, mi invitò adagiandosi su un divano. È un secolo che non vedo più una persona viva. Le parole che aveva usato erano scelte in modo certamente strano e mentre appoggiava la schiena al bianco e scivoloso divano e mi chiamava con un cenno di quelle mani insepolte, ebbe l'impulso immediato di girarmi e scappare di corsa. Ma la sua faccia anziana, sospesa lì alla luce delle candele, con le guance rosse innaturali come due mele dipinte e gli occhi azzurri che si muovevano gentili, sembrava appellarsi a me contro la mia vigliaccheria per ricordarmi che viva o morta Mary Pasch non avrebbe fatto male a una mosca. «La prego, si sieda!» ripetè, e io mi sedetti all'altro capo del divano. «È stato così incredibilmente buono avvenire!» «Sarà stata di certo Grace a chiederglielo!» rise di nuovo. La sua conversazione veniva continuamente interrotta da quelle risatine incoerenti. «È un avvenimento! Un vero avvenimento! Ho avuto così pochi visitatori dopo la morte, capisce?» una nuova doccia gelida mi ghiacciò il corpo, ma la guardai risoluto e l'innocenza del suo volto mi disarmò di nuovo. Deglutii e le parlai con un enorme sforzo come se stessi sollevando una lapide. «Vive qui da sola!» cominciai tanto per dire. «Oh, come sono felice di udire la sua voce! Ricordo ancora le voci, anche se ne sento così poche!» mormorò con aria sognante. «Sì, vivo qui da sola. La vecchia che ha visto prima se ne va quando scende la notte. Non vuole restare quando fa buio. Dice che non può, non è buffo. Ma non ha importanza, a me piace il buio!» si piegò verso di me con uno dei suoi sorrisetti vacui. «I morti?» disse. «Naturalmente ci si abituano!» Mi schiarii nuovamente la gola, ma non mi uscì nessuna parola. Continuava a osservarmi con ammiccatine confidenziali. «E Grace?» Mi racconti della mia cara Grace. Avrei voluto rivederla, almeno una volta. La sua risata stavolta mi parve grottesca. «Quando ha appreso la notizia della mia morte, era con lei?» «E' rimasta terribilmente sconvolta?» Mi alzai in piedi e mi misi a balbettare come uno stupido. Non riuscivo a risponderle, non riuscivo a guardarla in faccia. «Ah, capisco, è troppo doloroso!» assentì lei con gli occhi colmi di lacrime e girò la testa tremante dall'altra parte. «In fondo, però, sono felice che le sia dispiaciuto. È quello che desideravo sentire e non speravo più. Grace dimentica!» Si alzò anche lei e ondeggiò per la camera, avvicinandosi sempre di più alla porta. «Grazie a Dio, pensai, se ne sta andando!» «Hai mai visto questa casa alla luce del giorno?» mi chiese di colpo. «Scossi la testa!» «È molto bella!» «Però non avrebbe visto me!» «Avrebbe dovuto scegliere tra me e il paesaggio!» «Io detesto la luce!» «Mi fa venire il mal di testa!» «E così dormo tutto il giorno!» «Mi stavo appena svegliando quando è arrivato lei!» mi sorrise con un'aria di crescente confidenza. «Lo sa dove dormo di solito?» «Laggiù!» «In giardino!» «Di nuovo una risatina stridula!» «C'è un angolo ombreggiato in fondo al giardino dove non arriva mai il sole!» «A volte vi rimango a dormire finché spuntano le stelle!» mi tornò in mente il riferimento alla sepoltura in giardino contenuto nel telegramma e pensai «Dopotutto non è una condizione così infelice! Mi chiedo se non sia più contenta adesso di quando era viva!» «Forse lo era!» «Ma di sicuro non lo ero io in sua compagnia!» «Mentre la vedevo sgusciare verso la porta ebbe il desiderio fortissimo di arrivarci prima di lei!» «In un impeto di vigliaccheria la superai!» «Ma un secondo dopo lei aveva già afferrato la maniglia e si appoggiava alle ante della porta con la sua lunga veste bianca che la ricopriva come un sudario piegò la testa leggermente da una parte e mi scrutò da sotto quelle sue palpebre senza ciglia «Non se ne starà andando?» mi rimproverò cercai inutilmente di ritrovare la voce quindi in silenzio le feci segno di sci «Vole andarsene! Andarsene via! Definitivamente!» I suoi occhi erano ancora posati su di me e vidi delle lacrime raccogliersi agli angoli e scorrere giù sulle guance rosse lucide «Oh, ma non deve!» disse gentilmente «Mi sento così sola!» Balbettai qualcosa di incomprensibile come ipnotizzato dalla mano dalle unghie blu che stringeva la maniglia all'improvviso si aprì di colpo la finestra alle nostre spalle e una raffica di vento sollevandosi dal buio spense la candela posata all'angolo del camino mi girai nervosamente a guardare se anche l'altra candela si stesse spegnendo «Non le piace il rumore del vento?» «A me sì!» «Non ho altri con cui parlare!» «A la gente non piaccio molto da quando sono morta!» «Strano, vero?» «I contadini sono così superstiziosi!» «A volte sono veramente sola!» la sua voce si ruppe in un ultimo sforzo di riso e lei si mosse verso di me senza togliere la mano dalla maniglia «Sola, sola!» «Se sapesse quanto!» «È stata una bugia dirle che non lo ero!» «E adesso arriva lei e il suo viso ha un'espressione amichevole e poi mi dice che se ne vuole andare!» «No, no, no!» «Non deve!» «Altrimenti perché è avvenuto?» «È crudele!» «Credevo di aver imparato che cosa fosse la solitudine!» quando Grace si sposò «Capisce?» Grace era convinta di pensare a me in continuazione ma non era così mi chiamava Cara e invece pensava a suo marito e ai suoi figli allora mi dissi «Non potresti sentirti più sola neanche se morissi!» «Ma adesso lo so!» «Non ho mai provato una solitudine più grande di quella che ho sentito in quest'ultimo anno!» «Mai!» «E a volte mi siedo qui e penso «Se un giorno arrivasse un uomo e si innamorasse di te!»» fece un altro dei suoi risolini insulsi «Beh cose del genere sono già accadute si sa persino quando la giovinezza è passata un uomo che avessi anche lui i suoi guai ma non è venuto nessuno fino a stanotte e adesso mi dice che se ne vuole andare» improvvisamente si lanciò verso di me «Oh resti con me resti con me solo stanotte è così dolce e sereno questo posto non lo saprà nessuno non verrà nessuno a disturbarci?» «Avrei dovuto chiudere la finestra subito dopo la prima raffica di vento avrei dovuto immaginare che ne sarebbe seguita un'altra e più potente della prima» di fatto si alzò in quel momento facendo aprire la grata dai cardini lenti riempiendo la stanza del rumore del mare e di umidi mulinelli di nebbia e scaramentando l'altra candela per terra la luce si spense e io rimasi lì noi due restammo lì senza vederci nelle tenebre che ci avvolgevano ruggendo pensai che mi si fermasse il cuore dovetti riprendere fiato facendo grossi respiri che mi ricoprirono di sudore la porta la porta sapevo di trovarmi ci di fronte quando la candela si era spenta qualcosa di bianco e di spettrale parve sciogliersi e accassarsi mollemente davanti a me nella notte ed evitando il punto in cui si era afflosciato ci passai intorno facendo un ampio giro afferrai la maniglia mi intrappolai il piede in una specie di sciarpa invisibile e mi liberai con uno strattone da quest'ultimo ostacolo avevo aperto la porta non appena mi ritrovai all'ingresso udì un lamento nel buio che mi ero lasciato dietro ma scattai lo stesso verso la porta di casa l'apri e mi ritrovai in salvo nella notte chiusi la porta su quel gemito strappacuore e la nebbia e il vento mi avvolsero nelle loro braccia rigeneratrici quando ebbi di nuovo la mente lucida e provai a ripensare all'accaduto scopri che anche il minimo sforzo mentale mi faceva salire la febbre e battere il cuore in gola inutile non potevo assolutamente sopportarlo perché avevo visto Grace Bridgeworth fin lutto piangere sul telegramma eppure mi ero seduto a parlare con sua sorella sullo stesso divano con la sorella morta da un anno era un circolo vizioso non riuscivo a spezzarlo e il fatto che il mattino dopo avessi la febbre alta avrebbe potuto spiegare tutto eppure non riuscivo a non pensare alla stringente realtà di quello che avevo visto avevo davvero parlato con un fantasma non era stata soltanto un'allucinazione dovuta alla febbre e se Mary Pasch non fosse morta del tutto tanto da gettarmi in faccia l'indicibile inespressa solitudine di tutta la vita da gridare finalmente quello che da viva era sempre stata costretta a tacere stranamente quel pensiero mi commosse nella mia debolezza mi fece piangere quante donne erano come lei pensai e forse dopo la morte se si presentava loro un'opportunità cercavano di coglierla mi passarono per la testa vecchi racconti e leggende la sposa di Corinto il vampiro medievale ma non mi parvero nomi da collegare alla scialba figura di Mary Pasch la mia mente vaneggiante venne assalita da immagini e congetture e più mi abbandonavo loro più mi convincevo che una creatura che un tempo era stata Mary Pasch quella notte aveva parlato con me decisi quando mi fossi alzato dal letto di tornare in quella casa alla piena luce del giorno stavolta di cercare la tomba in giardino quell'angolo ombreggiato dove non arriva mai il sole e dare pace al povero fantasma portandogli qualche fiore i dottori invece decisero altrimenti e forse la mia debole volontà fu loro complice senza saperlo ad ogni modo cedetti alla loro insistenza e mi feci portare dall'albergo al treno diretto a Parigi perché da qui mi trasportassero via nave come una valigia al sanatorio svizzero che mi avevano consigliato naturalmente intendevo tornare non appena mi fossi rimesso e nel frattempo con crescente tenerezza ma con maggiore intermittenza i miei pensieri si allontanavano dalla montagna innevata e riandavano a quella notte ventosa d'autunno alla Bé des Tres Passés e alla manifestazione della defunta Mary Pasch che per me era più reale di quanto fosse mai stata la Mary Pasch viva dopo tutto perché avrei dovuto raccontare la mia esperienza a Grace Bridgeworth avevo saputo cose che in realtà non la riguardavano se la rivelazione era stata fatta a me non era mio dovere seppellirla nei più profondi recessi in cui l'inesplicabile e l'indimenticabile dormono insieme e poi quali interessi avrebbe potuto trovare una donna come Grace in una storia che non avrebbe potuto capire e alla quale non avrebbe potuto credere mi avrebbe semplicemente considerato un po' strano e già diverse persone l'avevano fatto a dire il vero il mio primo obiettivo quando tornai finalmente a New York fu convincere tutti che avevo completamente recuperato la salute sia fisica sia mentale e raccontare l'esperienza avuta con Mary Pasch non rientrava assolutamente nel quadro tutto considerato avrei fatto meglio a tenere a freno la lingua dopo un po' tuttavia il pensiero della sua tomba tornò a tormentarmi mi chiedevo se Grace vi avesse fatto apporre una lapide decorosa l'aspetto abbandonato della casa mi lasciava pensare che probabilmente non aveva fatto niente aveva semplicemente rimandato la cosa con l'intenzione di occuparsene quando si sarebbe recata di nuovo all'estero Grace dimentica sentivo dire il povero fantasma con voce tremante no non avrei destato nessun sospetto ponendole contatto quell'unica domanda riguardo alla tomba e dovevo farlo soprattutto perché cominciavo a rimproverarmi di non essere tornato a verificare con i miei stessi occhi come questa veniva tenuta Grace e Horace mi accolsero con la loro consueta cordialità e ben presto ripresi l'antica abitudine di piombare in casa loro a pranzo o a cena quando pensavo di trovarli da soli ciò nonostante non trovai subito l'occasione giusta e dovetti aspettare diverse settimane e poi una sera in cui Horace era a cena fuori e io ero in salotto con Grace mi cadde lo sguardo su una fotografia di sua sorella una vecchia foto sbiadita che sembrava guardarmi col rimprovero a proposito quella domanda e fino a quel momento è così scossi la testa scossi la testa dopo tutto quello che mi aveva sconvolto era che invece il cambiamento fosse così esiguo che tra la morte e la vita sembrava ci fosse dopo tutto così poca differenza a parte quella di una misteriosa crescita di realtà ma gli occhi di Grace mi interrogavano ancora con insistenza devi dirmelo ripetè lo so che sarei dovuto andare laggiù molto tempo fa sì forse avresti dovuto farlo esitai per occuparti della tomba almeno rimase in silenzio seguitando a guardarmi aveva smesso di piangere ma il suo sguardo sollecito si stava trasformando lentamente in un'espressione d'orrore con esitazione quasi con riluttanza allungò la mano e la posò per un attimo sulla mia caro vecchio amico cominciò sfortunatamente la interruppi non sono potuto tornare di persona a vedere la tomba perché il giorno dopo mi sono ammalato sì sì certo lo so si interruppe sei proprio sicuro di esserci andato davvero mi domandò bruscamente sicuro buon dio adesso fui io a fissarla pensi che non mi sia ancora ristabilito del tutto suggerì con una risatina nervosa no no certo che no ma non capisco non capisci cosa sono entrato in quella casa ho visto tutto in realtà tranne la sua tomba la sua tomba Grace saltò in piedi stringendo le mani al petto e allontanando lo sguardo da me una volta arrivata all'altro capo della stanza mi fissò quindi tornò lentamente dove era allora dopo tutto mi chiedo seguitava a guardarmi in parte impaurita in parte rassicurata non potrebbe essere semplicemente che non l'hai saputo saputo ma se era su tutti i giornali non li leggi mai intendevo scriverti credevo di averlo fatto ma poi mi sono detta lo saprà comunque dai giornali lo sai quanto sono pigra a scrivere lettere cosa avrei dovuto sapere dai giornali ma come che non è morta non è morta non esiste nessuna tomba si è trattato soltanto di transcatalettica un caso straordinario hanno detto i dottori ma lei non te l'ha detto quando l'hai vista scoppiò in una risata semisterica di sicuro ti avrà detto che non era morta no dissi lentamente non me l'ha detto rimanemmo a parlare a lungo poi dopo mezzanotte tornò Horace Grace voleva continuare a discutere dell'argomento come si guidava a ripetere quella era stata di sicuro l'unica volta che la povera Mary era apparsa sui giornali mentre stavo seduto lì ad ascoltarla con pazienza tuttavia non riuscivo a trovare alcun interesse in quello che diceva sentivo che non avrei potuto mai più interessarmi a Mary Pasch o a qualsiasi cosa che la riguardasse che la riguardasse Grazie a tutti